Due atleti nisseni arrivano in finale in una prestigiosa manifestazione in Francia e non è la prima volta. Sì, infatti proprio lo scorso weekend siamo stati a Parigi dove ci siamo classificati in finale al settimo posto in una competizione prestigiosissima della Francia denominata Nui della Danza dell'Eleganza. È stata una competizione abbastanza prestigiosa in quanto comunque in finale c'erano delle coppie di alto livello per cui confrontarci anche con dei finalisti ai campionati del mondo per noi è un'ulteriore soddisfazione. In questa gara inoltre abbiamo avuto l'onore di rappresentare l'Italia nel team match insieme a dei nostri compagni di squadra italiani. Quindi rappresentare l'Italia è stata ancora un'ulteriore soddisfazione per noi. Anche proprio per questo dobbiamo ringraziare il nostro caposquadro italiano, Gaetano Iavarone, che proprio ci è convocati per rappresentare la nostra nazione. I prossimi impegni? Allora i prossimi impegni saranno proprio a Lecce il 7 marzo in cui parteciperemo ad una gara veramente importante dove diciamo che ci sarà quasi molte nazioni. Inoltre rappresenteremo anche l'Italia a Blackpool, una delle gare più importanti del mondo, infatti denominata il Tempio della Danza e noi daremo il massimo per rappresentare l'Italia nei migliori dei modi. Grazie.